buongiorno ragazzi oggi parliamo delle potenze con base 10 con la nostra seconda lezione sulle potenze cominciamo con un ripasso cosa sono le potenze le potenze sono moltiplicazioni ripetute cioè con tutti i fattori uguali due per due per due per due posso scriverlo anche sotto forma di potenza con 2 alla quarta le potenze sono definite infatti da due numeri detti base quello in basso ed esponente quello più piccolo in alto vediamo appunto che la base 2 indica il numero da moltiplicare per se stesso e l'esponente 4 l'esponente indica quante volte devo moltiplicare la base cioè il 2 per se stesso tutto insieme viene definito appunto potenza un altro ripasso le potenze con esponente 2 le potenze con esponente 2 si possono leggere in due modi diversi 3 alla seconda oppure 3 al quadrato ma perché 3 al quadrato vediamo un quadrato che ha lato 3 ovviamente per misurare la superficie del quadrato devo moltiplicare il lato per il lato quindi nel nostro esempio 3 per 3 che posso scrivere 3 alla seconda e leggere 3 al quadrato perché mi dà la superficie di un quadrato 3 per 3 è uguale a 9 centimetri quadrati un altro ripasso le potenze con esponente 3 le potenze con esponente 3 si possono leggere in due modi diversi 4 alla terza oppure 4 al cubo ecco qui un cubo le facce del cubo sono tutti quadrati quindi abbiamo tutti i lati uguali per misurare il volume del cubo devo moltiplicare la base per l'altezza per la profondità quindi nel nostro esempio 4 per 4 per 4 che posso scrivere 4 alla terza ma leggere anche 4 al cubo perché mi dà il volume di un cubo 4 per 4 per 4 è uguale a 64 centimetri cubi ancora un ripasso le potenze con esponente 1 ogni numero elevato ad 1 è uguale a se stesso 7 elevato a 1 è uguale a 7 19 elevato a 1 è uguale a 248 ripassiamo le potenze con corrisponente 0 ogni numero numero elevato a 0 è uguale a 1 7 alla zeresima potenza elevato a 0 è 1 19 elevato a 0 è 1 248 elevato a 0 è 1 vediamo quando la base è 0 cosa accade lo 0 elevato a qualsiasi numero è uguale a 0 è uguale a 0 0 elevato a 6 è 0 0 elevato a 19 è 0 lo 0 elevato a 0 è indefinito non ha significato 0 elevato a 0 è indefinito ripassiamo come si calcola il valore di una potenza abbiamo 2 alla quarta 2 per 2 4 4 per 2 8 8 per 2 16 facciamolo un'altra 3 alla quinta 3 per 3 9 9 per 3 27 27 per 3 81 81 per 3 243 ne facciamo un'altra 6 alla terza 6 per 6 36 36 per 6 216 ora arriviamo a parlare delle potenze con base 10 l'argomento di oggi le potenze con base 10 sono semplici da calcolare 10 elevato al quadrato o alla seconda è 100 10 elevato alla terza o al cubo è 1000 10 alla quarta è 10.000 per calcolare una potenza del 10 basta scrivere la cifra 1 seguita da tanti 0 quanti sono indicati dall'esponente 10 alla seconda 1 seguito da 2 0 10 alla terza 1 seguito da 3 0 10 alla quarta 1 seguito da 4 0 vediamo l'importanza delle potenze del 10 nel sistema decimale nel sistema posizionale decimale quello che usiamo noi per scrivere i numeri ogni cifra è 10 volte più potente di quella che è alla sua destra e in questo modo abbiamo creato partendo dal periodo delle unità semplici le unità le decine le centinaia poi abbiamo il periodo delle migliaia unità di migliaia decine di migliaia e centinaia di migliaia periodo dei milioni unità di milioni decine di milioni centinaia di milioni il periodo dei miliardi unità dei miliardi decine di miliardi centinaia di miliardi le unità posso rappresentarle come 10 elevato a 0 che fa 1 le decine come 10 elevato a 1 che fa 10 le centinaia 10 elevato alla seconda 100 le unità di migliaia 10 elevato alla terza 1000 le decine di migliaia 10 alla quarta 10.000 le centinaia di migliaia 10 alla quinta 100.000 e le unità di migliaia 10 alla quinta 100.000 le decine di migliaia 10 alla settima 10.000 e poi andiamo alle centinaia di migliaia 10 all'ottava 100.000 e poi andiamo alle unità di miliardi 10 alla nona un miliardo e poi andiamo alle ah ho finito lo spazio ma immagino che abbiate capito adesso vediamo l'importanza delle potenze del 10 nella scomposizione e ricomposizione dei numeri per esempio scomponiamo un numero usando le potenze del 10 il nostro numero è 257.364 come lo posso scomporre utilizzando le potenze del 10? in questo modo 4 è 4 per 10 elevato a 0 6 è 6 per 10 elevato a 1 3 è 3 per 10 elevato al quadrato 7 è 7 per 10 elevato alla terza 5 è 5 per 10 elevato alla quarta e 2 è 2 per 10 elevato alla quinta vediamo meglio il perché allora queste sono 4 unità se io faccio 4 per 10 elevato a 0 quanto fa 10 elevato a 0? ve lo ricordate? ogni numero elevato a 0 è uguale a 1 quindi 4 per 1 è 4 quindi 4 unità adesso qui abbiamo 6 decine quindi 60 quindi dovrò fare 6 per 10 elevato a 1 che è 10 6 per 10 è 60 queste sono tre centinaia quindi è 3 per 10 elevato al quadrato che è 3 per 100 queste sono 7 unità di migliaia 7 per 10 elevato alla terza cioè 7 per 1000 queste sono 5 decine di migliaia 5 per 10 elevato alla quarta cioè 5 per 10.000 e poi abbiamo 2 centinaia di migliaia quindi è 2 per 10 elevato alla quinta quindi 2 per 100.000 con lo stesso metodo possiamo ricomporre questo numero 2 per 10 alla quinta più 5 per 10 alla quarta più 7 per 10 alla terza più 3 per 10 al quadrato più 6 per 10 alla prima più 4 per 10 elevato a 0 e tutto fa 257.364 la lezione è finita e adesso mettiamoci a fare qualche esercizio a fare qualche esercizio a fare qualche esercizio per me anche una